Non è detto. Ragazzi, italiani, brasiliani, spagnoli, cosa facciamo? Ah, vogliono l'inno del Milan. L'inno del Milan? Bella. Lo sai, le parole. Un po'. No, io... Oh, 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 oh Dai, adoro Milan! Forza Milan sempre! Forza Milan sempre, forza Paolo! L'altro giorno l'ho sentito, sentito che sta bene, sta meglio, Daniel sta bene, quindi capitano sempre con te! Il nostro capitano! Forse ci sta seguendo, perché Paolo ogni tanto entra nelle dirette, se ci sei non ci riusciamo a vedere perché scrivono veloci, ma ti mandiamo tantissimi baci Paolo! E per tutti gli italiani, quindi io sono italiano, ho vissuto sette anni in Italia, quindi soffro tantissimo a vedere queste immagini, a vedere quello che sta succedendo, quindi è molto molto triste per me, anche se da lontano, però il mio messaggio qui è di speranza veramente, perché siete bravi, siete forti e se avete costruito un paese così bello, è perché ci avete qualcosa di diverso e anche questa volta riuscirete a uscire di questa situazione di una forma, di una maniera grandissima. Complimenti a tutti i dottori, a tutti gli infermieri, quelli che stanno lottando in questo momento lì davanti in ospedale, 24 ore, quindi ragazzi, grazie mille per quello che state facendo. Non posso immaginare quello che è stare lì 24 ore vedendo queste cose, le famiglie che hanno perso delle gente, dei carici, dei familiari che non posso neanche portare al cimitero, quindi sono cose veramente dolorose, difficili, ma abbiamo un po' di speranza, forza, fede che questo brutto momento passerà e l'Italia resterà sempre un paese bellissimo, non solo per il paese ma soprattutto persone. Quindi Italia, grazie mille, siamo sempre con voi. Che carino che sei. Noi ci sentiamo in questi giorni, mi fai sapere come va, no? Certo, sì sì, stiamo in contatto perché ti informo un po' quello che sta succedendo qua, tu quello che sta succedendo lì, scambiamo un po' di aiuti. Sì, siamo forti, dai, siamo forti. Siamo forti, siamo forti, dai. Esistiamo e lo ammazziamo questo. Non voglio dire. Sai che io ogni tanto mi viene il sangue alla testa e quindi dico delle parolacce, ma non le devo dire. Grazie ancora Riccardo, ti chiamo presto. Un bacio a te, alla tua famiglia, ai tui bimbi. Un bacione. Anche a te, tutta la famiglia, bimba. Grazie. E un abrazo molto grande a tutto il Brasile e a tutte le persone che ci stanno guardando, a tutte le persone che ci stanno guardando, a tutte le persone che ci stanno guardando, a tutte le persone che stavano qui con noi oggi per la tarda. Molta fuerza, quediamoci a casa. Io e Riccardo le mandiamo moltissimi abrazioni e grazie per aver stato qui con noi. Questo è. Grazie a tutti. Grazie mille ragazzi. Obrigado, galera. Spero che tenham gostato. Un beijão per voi. Ciao. Ciao a tutti. A presto, Riccardo. Ciao, a presto. Adoro demais. Obrigado, un beijo. Ciao, un bacio ancora. Ciao, ciao. Ciao. Grazie.